...e offerto da Amica Chips. Amica Chips augura a tutti un buon divertimento. Lavoro, lavoro, sempre lavoro. E poi qui è sempre tutto così grigio. Questo castello avrebbe bisogno di un po' di luce. Il conte mi obbliga sempre a rimanere nell'oscurità. Ma ora che luce è? Vigor, è pronta la pozione? Padrone, buonasera. Manca soltanto l'infuso che ti avevo ordinato di preparare. Il nostro esperimento sarà concluso. Ma dovremmo aspettare la notte di Halloween. Conti, il sangue della cena non era poi così fluido? Davvero divertente. Fai qualcosa. Sono il conte Dracula e non posso presentarmi in questo modo. Non smetto di sinchiozzare. Presto, un antidoto. Prova il modo. Signore, ho io la soluzione. E non è un antidoto. Dicono che lo spavento sia il miglior nemico del suo fastidioso problema. Certo, non è poi così semplice riuscire a spaventare il conte Dracula. Wow, mi lasciate far. Me la pagherai, Egon. Grazie a tutti. 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 Assistente davvero geniale. Peccato che non sia stata la soluzione al mio problema. Niente paura, forse un po' di aglio? Ma sei impazzito? Grazie a tutti. Ho fatto un divertente trucco che può essere all'altezza della situazione, ma se me l'hai visto di qualcuno, aspetti con il padrone. Fa presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi ha spaventato sul serio e non penso sia un'ottima cosa. Adesso basta, sono davvero stanco. Forse... Apre la bocca, padrone. Apre la bocca e mi passerà tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Apre la bocca, è stato divertente. Ma cerchiamo di non raccontare il segno del mio segno. Apre la bocca, è stato divertente. 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 Grazie.